Ciao ragazzi e ciao ragazze! Io sono Jenny, bentornate sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Siccome la sessione si sta avvicinando e immagino che tutti coloro che stanno studiando per la fine dell'anno scolastico o per la fine dell'anno accademico hanno un sacco di impegni e non sanno come organizzarli, ecco che io ho realizzato un video su 5 consigli su come organizzare il proprio tempo e come essere più produttivi. Il primo consiglio che voglio darti è scriviti su un foglio o sulle note del telefono come preferisci quello che devi fare durante la settimana. Ora che ti sei iscritto su un foglio tutto quello che devi fare durante la settimana, il secondo consiglio è scegli le priorità e ciò che invece puoi aspettare. Il terzo consiglio che voglio darti è aprire l'agenda o il calendario del telefono. Io in questo caso uso Google Calendar con cui mi trovo veramente bene e fermati a pensare come potresti organizzarlo. Ricorda di non mettere mai troppe cose se sai di non riuscirci. Il quarto consiglio è inizia a scrivere e inserire tutti gli impegni. Usa colori diversi così da aiutarti ad avere un piano visivo di ciò che devi fare. Ultimo ma non per importanza è ricorda di rispettare il tuo piano in modo tale da sentirti soddisfatta e felice. Alla fine della giornata metti le spunte su tutto ciò che hai fatto in modo tale da sentirti veramente felice e andare a dormire sapendo di aver realizzato ogni cosa che volevi. Ed eccoci qui alla fine del video. Questi erano i miei 5 consigli su come essere produttivi. Ovviamente questo è ciò che faccio io, non è detto che valga per tutti. Ma spero comunque di esservi stata utile e di avervi dato qualche consiglio. Se è così lasciate un like, un commentino ed iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!